Giulio Sabbi, una partita che possiamo definire lo specchio di questa stagione, no? Purtroppo sì, non solo questa, ma questa serie con Latina ha evidenziato molti dei nostri difetti, purtroppo. Abbiamo provato a riaprire la serie a Latina, amendo anche un po' un pizzico di fortuna vincendo al tie-break. Questa sera ci abbiamo provato, ma comunque è emersa la voglia di Latina e devo dire che soprattutto ho il merito a loro perché hanno giocato tre partite, una più bella dell'altra e hanno meritato di passare il turno. Venendo questa partita non si è mai avuta l'impressione che poteste riuscire a capovolgere il punteggio, anche dal punto di vista proprio psicologico? Quando vengono queste prestazioni una dietro l'altra purtroppo manca la fiducia, manca la sicurezza in se stessi, quello che vuoi. Purtroppo in questa serie Latina ha giocato meglio, ha meritato di passare il turno e basta, facciamo i complimenti a loro, facciamo un mea culpa nostro e niente. È stato più un problema psicologico oppure un problema proprio tecnico? Sicuramente il livello di atteggiamento ci ha aiutato poco perché comunque siamo entrati in campo in tutte e tre le partite con un atteggiamento secondo me sbagliato perché queste sono partite da dentro fuori e le devi giocare sempre al massimo dell'attenzione, della voglia, della grinta e tutto. Contro squadre che giocano bene a palla a volo si paga e abbiamo visto, l'abbiamo visto. Il bilancio è sicuramente negativo di questa stagione, abbiamo visto una lube in questi playoff davvero l'ombra di quello che ci aspettavamo. Sì, purtroppo è stata una stagione piena di alti e bassi, più bassi che alti, abbiamo provato a nascondere i nostri difetti nel giro di ritorno perché comunque venivamo da dieci partite vinte prima di Modena, però comunque non ci ha aiutato sicuramente il cambio di palleggiatore, però questi sono tutti alibi che purtroppo nel nostro sport e al nostro livello non servono a niente. Quando si gioca a questo sport e a queste partite così bisogna dare sempre il 110%, se no non si va da nessuna parte.